In tanti hanno partecipato ieri all'inaugurazione del sentiero di Berghem che la SAT di Riva ha voluto dedicare al compianto socio e amico Claudio Fedrizzi, per anni colonna del gruppo sentieri della sezione di Riva e per 35 anni dipendente del comune. Questo affascinante tracciato parte dalla frazione di San Giacomo, sale a quella di Campi e si conclude nella splendida cornice degli scavi di San Martino. Con il presidente della SAT Giorgio Galas erano presenti Alessio Zanoni e il vice sindaco Mario Caproni. C'erano tra gli altri anche il comandante dei Vigili del Fuoco Graziano Boroni, una rappresentanza del soccorso alpino di Riva del Garda, il responsabile della commissione sentieri della SAT centrale Ivo Ceolan. Claudio Fedrizzi non è stato solo un volontario, sempre presente della SAT, ma anche una colonna del corpo bandistico cittadino, direttore della scuola musicale, vice presidente della cooperativa edilizia Martiri 28 giugno. Un uomo e un amico che ha dato tanto nel campo del volontariato e del sociale, ha sottolineato Maurizio Torboli, componente del direttivo della SAT di Riva. Il sentiero, intitolato ieri a Fedrizzi, con la posizione di due targhe alla partenza delle foci e all'arrivo a San Martino, è un unicum in Trentino perché tocca tre montagne, la parte nord-est della Rocchetta, la zona ovest del Monte Tombio e la zona sud del gruppo Magnone-Pichea. Alla posa della prima targa alle foci di San Giacomo, il presidente della SAT Giorgio Galas, con la voce rotta dalla commozione, ha ricordato l'entusiasmo, la disponibilità, l'allegria, la serietà di un socio che con passione e altruismo ha contribuito alla crescita della sezione rivana. La visione di serietà, di un affetto schietto e senza inutili prongoli. Insomma, scusate, è stata amicizia con tutti noi, allegra, sincera, generosa e positiva. Con la tua allegria e la tua competenza ci hai guidato fino a che le forze ti hanno sostenuto. Con te abbiamo avuto la fortuna di condividere tante giornate di lavoro e di star bene assieme. Ora che il sentiero è realizzato, senz'altro avremo dalla sua la tua approvazione. Grazie. Io ho una speranza grande, che lui ci veda, perché vorrei dirgli ci manchi Claudio. Ciao. Grazie.